Avrebbe preferito incontrare Rocky Marciano o Cassius Clay? Tutti e due, entrambi. Lo sa che per battersi con lei Francesco Damiani vorrebbe 50 miliardi? A me va benissimo, se lui prende quella cifra vuol dire che io prendo di più. Nel suo ultimo incontro l'arbitro ha fatto bene o no a fermare Radoc? Sì. Qual è il personaggio italiano, sportivo o no, che ammira di più? Una persona italiana? Fammi pensare, Tommasino Buscetta? E chi è? Sì, no.